Ciao, Alunio! Benvenuti in questa nuova lezione di corsia! Facilissimo! Dovete duettare il video e poi ripetere dopo di me! Mi raccomando, concentratevi perché poi metterò il vuoto! Iniziamo subito! La prima parola è tuta grigia. In corsivo si dice tuta grigia. Ora tocca a te. Mmm, dai, dai! Potresti migliorare! La seconda parola di questa lezione è bagno. In corsivo si dice bagno. Ora tocca a te. Non mi sei piaciuto! Infine, ma tutto bene si dice ma tutto bene. Vai! No, qua per niente. Meriteresti un due. Sarà per la prossima lezione.